Procedura civile, lezione numero 5, il pubblico ministero. Argomenti trattati in questa lezione, considerazioni generali, i casi di intervento del pubblico ministero, casi di intervento obbligatorio, casi di intervento facoltativo, i poteri e l'astenzione del pubblico ministero, l'astenzione del pubblico ministero. Considerazioni generali. Il pubblico ministero è rappresentato dal procuratore della Repubblica nei procedimenti davanti al Tribunale, dal procuratore generale presso la Corte d'Appello nei procedimenti presso la Corte di Appello e dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione nei procedimenti davanti alla stessa. Al pubblico ministero il legislatore ha attribuito i medesimi poteri delle parti, ovvero la possibilità di agire in giudizio e la possibilità di resistere in giudizio. La funzione del pubblico ministero è quella di tutelare diritti ed interessi di rilevanza pubblica. Pertanto il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti richiedendo dove sussista l'urgenza, provvedimenti cautelari necessari. Il pubblico ministero ha azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita. Il ruolo del pubblico ministero è svolto in assoluta indipendenza da qualsiasi organo. Casi di intervento del pubblico ministero. L'intervento del pubblico ministero ha natura obbligatoria in tutta una serie di ipotesi legislativamente previste. In tutti gli altri casi il suo intervento è facoltativo. Vediamo i casi di intervento obbligatorio. I casi in cui è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero pena l'impossibilità di tenere l'udienza vengono elencati dall'articolo 70 del codice di procedura civile e sono le cause che egli stesso potrebbe proporre, le cause matrimoniali in cui viene discussa la nullità o l'annullabilità del vincolo, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone e gli altri casi previsti dalla legge. I casi di intervento obbligatorio sono sanati dalla nullità insanabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Casi di intervento facoltativo, a esenzio dell'articolo 70,3, il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse. L'intervento facoltativo è rimesso alla discrezionalità del pubblico ministero stesso e non è sindacabile in alcun modo. Anche il giudice, quando ravvisa la sussistenza di un pubblico interesse, provvede a darne comunicazione al pubblico ministero. Poteri e l'astensione del pubblico ministero. Ai sensi dell'articolo 72 i poteri del pubblico ministero sono, nelle cause che può proporre, ha gli stessi poteri delle parti, quindi rientra nelle sue facoltà formulare domande, proporre eccezioni di carattere processuale e sostanziale, produrre documenti, dedurre prove, assumere conclusioni e proporre impugnazione. Negli altri casi di intervento, escluse nelle cause davanti alla Corte di Cassazione, il pubblico ministero ha poteri più limitati in quanto deve attenersi alle domande proposte dalle parti. In questi casi il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni. Modalità di intervento. Il pubblico ministero interviene davanti al giudice istruttore e al collegio presentando in udienza una comparsa o depositandola in cancelleria davanti al collegio mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza e se interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni. L'astenzione del pubblico ministero, il pubblico ministero che interviene nel processo civile, si applicano le disposizioni relative all'astenzione dei giudici ma non quelle relative alla ricusazione. L'inosservanza del dovere di astenzione implica responsabilità disciplinare in quanto violazione di un dovere di ufficio.